Adesso utilizzeremo una polvere per fissare quello che abbiamo messo finora come prodotti in crema, che è fondamentale perché se no si creeranno tipo delle righe e onde evitare questo si dà con un pennello molto grosso o una cipria molto trasparente o come in questo caso un fondotinta sempre ai minerali che in realtà funziona sia da fondotinta che da cipria. La cipria diciamo che è un po' come la lacca per fissare il tutto, quello fatto finora. Ne occorrerà veramente una piccola quantità, con un pennello molto grosso, con dei movimenti circolari, si andrà, circolari e rotatori, si andrà a stendere uniformemente questo velo di polvere che servirà per fissare tutto quello fatto finora. Grazie. Grazie. Grazie.